Di nuovo vediamo un video nel quale ci preoccupiamo di come inserire il Digital Storytelling in classe. Rapidamente, per Digital Storytelling si intende una metodologia attiva, nella quale i ragazzi partecipano direttamente creando delle storie, secondo la convinzione che tramite il racconto raggiungo una forma più profonda di apprendimento che rispetto a quella che è invece la memorizzazione dei semplici contenuti dal libro di testo. Non è una semplice presentazione in PowerPoint o multimediale perché naturalmente è retta da un filo rosso che è una storia, da cui prende il nome. Le tipologie sono molto numerose, parliamo di finali o prologhi alternative, interviste o dialoghi impossibili, sarà il nostro caso, poi anche la biografia, reportage o science fiction o programma TV. Quali sono i vantaggi? Si parla di un apprendimento esperienziale perché naturalmente i ragazzi sono in prima persona attori del loro apprendimento e per ovvi motivi stimola maggiormente la creatività, piuttosto che ripetere una parte di un libro di testo, è potenzialmente multidisciplinare e senz'altro stimola anche competenze trasversali, specie il Digital Storytelling che è quello di cui ci occupiamo. In questo caso la competenza trasversale per esempio è l'uso di determinati siti o programmi che consentano il Digital Storytelling, l'uso di certe piattaforme piuttosto che altre, l'uso di strumenti collaborativi nell'ipotesi che lo Storytelling venga fatto in gruppo. Come integrarlo in classe? Ecco, qui abbiamo pensato a una lezione di letteratura, letteratura inglese, ma la qualcosa potrebbe essere applicata a lezioni di filosofia o anche di storia. La tipologia è quella dell'intervista impossibile su un testo di Dickens e l'obiettivo in questo caso è una riflessione intratestuale ed extratestuale che normalmente si svolge in classe con i ragazzi, ma attraverso una strada diversa che è quella della creazione di un testo, quindi appunto di un storytelling. Lo strumento che adopereremo e nel quale ora ci andremo a dirigere è il sito TAC.com che si presta molto agevolmente ad uno studio ed è un lavoro di questo tipo. Ecco il progetto dell'intervista impossibile. Quello che stiamo vedendo è realizzato con TAC ed è visibile e raggiungibile all'indirizzo www.tac.com, scritto T-A-C-K-K, punto com, slash intervista Dickens, tutto attaccato. Una volta diretti in quel link troviamo questo TAC. Nella parte alta, come vedete, ho inserito semplicemente un'immagine, un'immagine che reca un microfono e la scritta intervista impossibile. Poi ho cominciato a scrivere, dando un titolo, in questo caso il titolo è Il progetto. Il progetto consiste nel realizzare interviste con personaggi famosi, per esempio autori della letteratura ma non solo, di modo a esplicitare alcuni tratti stilistici salienti della loro figura e della loro opera. Naturalmente uno spunto molto nobile sono le interviste impossibili di Manganelli che i ragazzi difficilmente conosceranno, essendo un spettacolo della RAI ormai di quasi 40 anni fa. Si tratta di uno spettacolo molto interessante, letterariamente anche piuttosto raffinato, in cui degli uomini di cultura immaginano di intervistare circa un'ottantina di personaggi famosi, non tutti appartenenti a epoche vicino alle nostre. Il caso che abbiamo preso in considerazione, anche per partire, è quello di Dickens, interpretato magistralmente, in questo caso, da Carmelo Bene. L'intervista, peraltro, è una delle poche presenti in internet di questo progetto di Giorgio Manganelli ed è divisa in due parti, in tre parti anzi, ecco, che ho riportato in questo TAC. Ecco, qui vediamo anche che il TAC può incorporare un numero potenzialmente infinito di video. In questo caso, per dare uno spunto ai ragazzi, o, piuttosto che fornire loro il link, incorporato in questo lavoro, in questo cartellone multimediale, le interviste. E poi andiamo alla parte più tecnica. Abbiamo detto che l'obiettivo è fare riflessioni intratestuali ed extratestuali sul testo di Dickens. Questo per dire che il Digital Storytelling non è un modo per divertirsi con le immagini, o con i suoni, o con i siti, come a volte i detrattori lo descrivono. È un modo diverso di fare le stesse riflessioni, in questo caso intratestuali ed extratestuali, che normalmente si fanno nello studio tradizionale di un autore, special triennio delle superiori, nella cosiddetta analisi del testo. Ecco, qui ho precisato meglio l'obiettivo. Intervista a Charles Dickens su Grandi Speranze, il romanzo famosissimo. E qui ho dato, diversamente dall'esempio relativo all'intervista impossibile di Pitagora, di Umberto Eco, delle indicazioni molto precise. L'obiettivo dell'intervista consiste nel far emergere i punti che caratterizzano l'opera come romanzo di formazione. Quindi vediamo che c'è un aspetto di analisi del testo assolutamente tradizionale, solo che noi lo vogliamo far emergere con il digital storytelling. Evidenziare poi gli aspetti autobiografici dell'opera, quindi significa che nell'intervista i ragazzi devono far emergere questo aspetto. E qui andiamo all'aspetto intratestuale. Discutere la possibilità che Stella sia una sorta di alter ego del personaggio principale. E questo è un aspetto abbastanza dibattuto e, tutto sommato, ancora abbastanza semplice del testo. E poi, e qui andiamo anche a riflessioni extratestuali. Riflettere sul rapporto amore-speranza presente nel romanzo. E infine, questo è l'aspetto probabilmente più interessante, avanzare l'ipotesi che l'opera sia in realtà un specie di saggio poetico sul tema dell'abbandono. I ragazzi si dà per scontato che conoscano la storia se non abbiano letto integralmente l'opera. e in quel caso possono percepire, accettare o non accettare questa tesi, romanzo, come discorso sull'abbandono. Le indicazioni operative. Ecco, per ogni aspetto della intervista-domanda è opportuno citare il passo dell'opera che giustifichi la parola. Questo è un aspetto molto importante. Per fare in modo che l'intervista non sia un momento di svago, ma un momento di riflessione sul testo, è sempre opportuno che tutto ciò che i ragazzi dicono nell'intervista o fanno dire all'intervistato o all'intervistatore abbia un suffragio nel testo, nel testo dell'autore naturalmente. E qui basta un'indicazione semplicemente della pagina o addirittura il testo stesso citato. Il prodotto finale può essere un file video, se i ragazzi si sentono particolarmente audaci, oppure un audio, se vogliono registrare la loro voce senza il loro volto, o semplicemente un testo. Ecco, in questo caso abbiamo visto come un digital storytelling legato alla letteratura inglese sia uno spunto per riflessioni di natura assolutamente tecnica sulla letteratura, volendo anche sulla filosofia e l'antropologia, in particolare rispetto a quest'ultimo tema, vale a dire grandi speranze come il discorso dell'abbandono, il discorso sull'abbandono, ma allo stesso tempo è una metodologia che ci ha permesso di fare in modo diverso lo stesso tipo di analisi che si fa in una normale analisi del testo. Con la differenza che in questo caso sono i ragazzi a produrre un testo compatibile con il testo dell'autore. E quindi questo significa metodologia attiva, vale a dire una metodologia nella quale i ragazzi non solo apprendono un contenuto, ma lo emulano, lo replicano, in questo caso lo scrivono, o lo filmano nell'ipotesi di un video, e che sia il più possibile però vicino allo stile o comunque alla poetica dell'autore.